Diamo valore alla qualità. La Fonderia Fratelli Velo opera nel campo delle fusioni in Ghisa dall'anno 1937. L'evoluzione dell'azienda in questo lungo periodo si è sviluppata principalmente nella realizzazione di chiusini e caditoie stradali in Ghisa lamellare. Ad essi si sono aggiunte negli ultimi decenni le proposte in Ghisa sferoidale col fine di soddisfare in modo totale le esigenze degli utilizzatori. Permane tuttora l'impegno di eseguire scritte o loghi particolari sui coperchi. L'azienda è disponibile inoltre a valutare eventuali esigenze di fusioni sul disegno del cliente. L'azienda è disponibile inoltre a valutare eventuali esigenze del cliente. L'azienda è disponibile inoltre a valutare normalmente esigenze del cliente. L'azienda è disponibile inoltre a valutare magnifico in acquisiيفе. L'azienda è disponibile inoltre a valutare EURO. Grazie a tutti.